e questi si fanno un governo e non se lo votano, e questi sono contro quelli e poi ci vanno insieme, questi fanno la terza posizione e questi stanno alla finestra, gli unici con un po' di buonsenso mi sembrano i social democratici, da un anno a questa parte sono cambiati, hanno il coraggio di scegliere e parlano a viso aperto, vota social democratico, vota l'alternativa riformista, oh diffilate delle imitazioni eh?